Bentornati su MyFootballJersey. Questa bellissima maglia arancio che vedete è la terza maglia dell'Inter per la stagione in corso, in edizione Player. Grazie per la visione! La maglia è molto bella, fatta benissimo. Vi ricordo che l'edizione Player è quella un po' sfiancata con i tessuti più tecnici che indossano i calciatori. Il costo lo vedete qui sopra, fate voi i vostri ragionamenti ma è veramente molto conveniente. Per avere tutti i dettagli trovate i riferimenti qua sotto in descrizione. Andate a scoprire questa e altre bellissime maglie che vi attendono. Prima di lasciarvi vi ricordo di iscrivervi al canale, spingete questo pulsante. Per oggi è tutto, alla prossima! Ciao! Ciao!